ciao ragazzi allora se dovessi fare una percentuale delle persone che a un certo punto si fanno seguire da me perché non riescono più andare d'accordo con i loro cani adulti dipendentemente dalla razza alla quale appartengono quali posso identificare come le motivazioni vi direi che quasi il cento per cento è sempre dovuto da errori importanti che si sono fatti nella crescita del cucciolo ma vi posso dire già dalle prime ore che arriva il cucciolo a casa o addirittura come noi lo trasportiamo eccetera eccetera possono essere fondamentali per la fiducia o la mancanza di fiducia che il cucciolo viene ad avere in noi in tutti noi familiari che l'abbiamo adottato e di lì possono iniziare delle anomalie nel rapporto con i futuri proprietari ma specialmente con i proprietari che dovrebbero poi avere un buon rapporto quando il cucciolo diventerà adulto invece questo non accade perché quando il cane supera i due anni inizia ad arrivare verso i tre anni ecco che si raccolgono i frutti di ciò che si è seminato e questo è il motivo per il quale anche se mi toglierò un po di lavoro come consulente ma questo non mi dispiace sono riuscito finalmente a terminare quest'opera che tutti mi stavano chiedendo ormai da tempo ma non ce la facevo mai a portarla a termine che il videocorso su come crescere il cucciolo perché diventi un cane affidabile ecco penso che questo sia per le persone inesperte che hanno acquistato cuccioli magari da privati da allevatori che poi non sono in grado di assisterli se li sono fatti non so spedire dall'estero hanno fatto un po di tutto se li sono fatti regalari dai parenti questa è l'opera più importante che ho realizzato perché attraverso 45 punti che ritengo che siano punti cardini che noi dobbiamo conoscere bene a rispettare certe regole e ben conoscendo questi 45 punti noi possiamo avere quasi la garanzia che indipendentemente dalla razza dalla tipologia del cane dal carattere che possa avere bene noi riusciamo a costruire se seguiamo questo un rapporto di affidabilità e di fiducia col nostro cane duraturo nel tempo ma non solo a noi ma a tutti i nostri familiari compreso i bambini questo è un videocorso che ho non solo fatto per i proprietari ma anche per i cani perché poi quando iniziano ad esserci questi malintesi i proprietari i familiari vivono momenti situazioni angoscianti ma i cani poi non se la passano poi così bene perché sappiamo poi che in un modo o nell'altro fanno poi una brutta fine quindi il successo del rapporto col nostro cane è sempre quello di riuscire a crescere un cane indipendentemente dal suo carattere poi quando è adulto perché quando è cucciolo non ce ne accorgiamo renderci conto veramente che fra noi il nostro cane che ormai superato i quattro anni c'è questa fiducia indispensabile da poter convivere per il resto della vita specialmente del cane perché i poverini loro durano normalmente meno di noi in piena serenità allora questo videocorso solo per quelli che mi seguono e io premio sempre quelli che mi seguono fino al 2 maggio avrà un costo che sarà quasi la metà di quale sarà poi il costo definitivo allora questo è un videocorso di sei ore quindi dove ho approfondito molto vari argomenti che sono indispensabili il suo costo definitivo sarà poi 697 euro come altri miei videocorsi di quella durata ma fino al 2 maggio alle ore 24 proprio perché voglio diffonderlo nelle famiglie finirla con questi problemi che hanno sia i familiari sia i bambini ma specialmente anche i cani che poi nel momento in cui sono stati cresciuti senza regole senza rispettare certi principi legati agli istinti animali poi diventano quelli scomodi che bisogna in qualche modo dover poi sistemare ecco proprio per diffonderlo farò 300 euro di sconto ma solo in questi giorni costerà solo 397 euro invece di 697 euro vi ho anche allegato i 45 punti io tratterò in questo videocorso e credo che questo videocorso se verrà seguito potrà mettere fine a tutte queste incomprensioni perché purtroppo si è diffuso ormai da anni questa credenza veramente limitante che basta crescere il cucciolo con amore per poter avere la garanzia che lui amerà a noi ma tutte le persone che io sto seguendo in questo momento che hanno problemi con i loro cani amavano i loro cani anzi a volte li amavano anche troppo ed è proprio il sistema che c'è adesso diffuso di amare il cane come fosse un bambino e non rispettando delle sue esigenze d'animale che poi porta questi contrasti che a un certo punto esiste solo più la separazione la famiglia per vivere tranquilla non vuole mai più vedere quel cane quel cane poverino bisogna trovare una sistemazione presso qualcuno che sappia si può dire ripristinarlo sotto l'equilibrio caratteriale perché proprio a volte con l'amore che si distrugge l'equilibrio caratteriale di un animale che cerca cose ben diverse da chi l'ha adottato da quelle che potrebbe cercare un bambino bene non lasciatevi perdere questa occasione si possono come dire vivere dei momenti veramente felici con i cani anche più forti di carattere come questi che gestisco io la stessa cosa possono farli familiari i bambini ma bisogna conoscere come fare anche oggi vi auguro a tutti buona giornata e vi ringrazio di avermi ascoltato a presto ciao 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 ciao